Don't Worry Darling è un film del 2022 diretto all'Olivia Wilde. Alice e Jack sono una coppia, una coppia in un setting da favola in qualche modo, in stile anni 50, in una location, Victory, una comunità di fatto in qualche modo. Una comunità nella quale abbiamo il personaggio di Alice, la moglie, interpretata da Florence Pugh, che passa le giornate in qualche modo a preparare la casa, a badare, diciamo, alle sue faccende domestiche, nell'attesa che rientri il marito, Jack, interpretato da Harry Styles. Jack, invece, è in qualche modo impiegato presso questa comunità. Fa parte, assieme agli altri uomini di tale comunità, infatti, con le mogli che le aspettano nelle rispettive case, fa parte di una misteriosa iniziativa. Un'iniziativa che, come regola, è per loro un qualcosa di estremamente importante per la loro comunità, ma della quale non possono parlare, non possono condividere le informazioni. Addirittura, assieme, non possono neanche parlare fra loro in marito a questo. E' questo il setting di questo film. Questo film che comincia, se vogliamo, in maniera molto rilassata, festosa in realtà, con le varie coppie di questa comunità, che magari passano una serata a bere abbondanti alcolici e a spassarsela. E' una realtà a tratti molto stereotipata questa, in qualche misura per qualcuno forse da sogno. Ma sarà da questa realtà che, a poco a poco, il personaggio di Edis comincerà ad avere delle strane sensazioni. Sarà il confronto, in qualche modo, con Margaret, un personaggio secondario di questo film, una delle mogli, infatti, di questa comunità, che si comporta in maniera strana, e magari qualche cosa che capita al personaggio di Edis, di intravedere, quando è magari in giro, magari oltre, diciamo, i suoi soliti circondari, che le porterà una profonda inquietudine, e a poco a poco la porterà a dubitare, in qualche modo, di quello che vede. E con essa, lo spettatore. Comincia quindi un film in questo modo di rivelazione, per certi versi, e di confronto con il percepito, e con l'oggettiva realtà. È un film questo, che forse ho, anche nei miei piccoli in questo momento, descritto fin troppo, e di fatto, in qualche modo, spoilerato anche troppo. Ma in realtà, per certi versi, questo è un film, a mio avviso, praticamente inspoilerabile. Difficilmente si può rovinare una storia del genere. Ma perché? Perché è una storia che abbiamo già visto tantissimo. Ed è una storia che si lascia intuire fin dai primi momenti. Ammetto che io, quando ho cominciato la mia visione di questo film, in realtà, già sapevo una cosa. Che in realtà ha pregiudicato, molto probabilmente, la mia percezione di quello che ho visto successivamente. Ovvero sia in realtà che, comunque, il genere sci-fi, in qualche modo, poteva centrarci con questo setting. E questo, inevitabilmente, mi ha fatto un pochettino guizzare le antenne, da appassionato del genere. Ma, a netto di questa mia informazione, credo che, anche non avendo saputo l'appartenenza di questo film anche a tale genere, molto probabilmente, nel giro veramente di pochi minuti, avrei intuito che c'era qualcosa che non andava. Qualcosa che, molto probabilmente, poteva essere spiegato con una chiave, in qualche modo, straordinaria. È un film questo che, per certi versi, è non banale, e al tempo stesso estremamente banale e scontato. È un film questo che, cosa ci presenta? Ci presenta una storia che, in realtà, è una storia che possiamo aver visto in tante altre produzioni, in qualche modo. Uno che vede questo film è inevitabilmente degli echi di altri film, anche di giri diversi, che però, in qualche modo, sono di fatto, in qualche modo, forse, la base di questa storia. Basti pensare, ad esempio, a The Truman Show, magari. O, perché no, magari anche La fabbrica delle mogli. Oppure, in qualche misura, forse anche Matrix ed Inception. È tutta qui la storia? Sì, e di fatto è tutta qui. Non ci sono grandi rivelazioni in questo film, in realtà. Ma non per questo. In realtà, questo film è un qualcosa che, secondo me, è assolutamente deprecabile e quindi non merita di essere discusso. Ma qua, per qualche altro motivo, eventualmente sì. In questo film abbiamo la possibilità di vedere degli interpreti che, in realtà, mi sono piaciuti tutti. Mi è piaciuta, e di solito non mi appassiona particolarmente potete vederla fare il personaggio di Alice all'attrice Lauren Pug. Quest'attrice che, in realtà, in qualche modo, riesce a essere in questo film al tempo stesso in alcuni frangenti fragile, se vogliamo, ma che, in realtà, tendenzialmente non è mai davvero fragile per certi versi. Ed anzi, comunque, si percepisce come sia in realtà un essere, in qualche modo, arginato. da ciò che vediamo e da ciò che, magari, non possiamo vedere. Abbiamo poi il personaggio di Jack. Questo personaggio, che in realtà doveva essere interpretato da Shia LaBeouf, è interpretato da Eris Dice. E devo dire che non mi è dispiaciuto. È un personaggio, quello di Jack, che, in realtà, da giovane rampante inserito in un contesto in cui potrebbe essere assolutamente un vincente, al tempo stesso, però, si rivela essere, in qualche modo, un miserabile, un ometto, in qualche modo, piegato, di fatto, da quella che è la personalità, a mio avviso, più dirompente, quantomeno, fra i personaggi principali di questo film di genere maschile. sto parlando del personaggio di Frank. Frank è interpretato da Chris Pine e Frank è il leader di questa comunità, la comunità Victory. È una figura misteriosa, Frank. Il capo, di fatto, in qualche modo, degli uomini di questa comunità, che in qualche modo la fa un po' da padrone, che è, per certi versi, un idolo di tutti ed una figura che genera una grande soggezione. una soggezione che, ad esempio, quando c'è qualche festa o magari c'è qualche occasione per poter essere tutti assieme, si percepisce ed è, secondo me, interpretato in maniera molto efficace da Chris Pine. Soprattutto quando, a poco a poco che la storia andrà avanti, avremo l'occasione di vedere di fatto un confronto tra il personaggio di Frank e quello di Alice, che inevitabilmente si scontreranno. Per certi versi, devo dire, è proprio lo scontro fra questi due personaggi l'elemento che maggiormente ho apprezzato di questa storia. Mi è piaciuta la competizione che a un certo punto viene palesata e che in questo modo palesa ancora di più di quanto in realtà era già stato fatto lo scenario in qualche modo inevitabilmente contorto e che nasconde di più di quello che ci si potrebbe immaginare. Bella la scena della cena fondamentalmente e al tempo stesso mi è piaciuto comunque in alcuni momenti il personaggio di Frank rispetto a quello di Alice perché effettivamente riesce a essere l'interprete Pine interprete in grado di trasmettere effettivamente una profonda senso di superiorità per certi versi rispetto a quelli che vede. Si sente il padrone del mondo in qualche modo questo personaggio ed è inevitabilmente contrapposto appunto con quello di Alice che invece non si sente padrone del suo mondo assolutamente ed anzi in realtà si sente prigioniera. una prigionia che ha difficoltà in qualche modo a spiegare anche a se stessa di cui ogni tanto intravede qualcosa al di là forse chi lo sa qualche riflesso magari o forse in qualche momento ha qualche ricordo vago magari di un'altra vita e alla fine inevitabilmente ci saranno momenti di difficoltà per Alice momenti di difficoltà momenti in qualche modo in cui questa comunità cercherà di soffocarla ed alla fine come possiamo immaginarci infatti ad un certo punto ci sarà per certi versi una resa dei conti una resa dei conti con una possibile apertura a un qualcosa di diverso da quello che era l'inizio di questa storia questi sommati in realtà potrebbero essere anche degli elementi che mi sono tutto sommato andati abbastanza a genere di questa storia ci sono però alcuni elementi che assolutamente non mi hanno convinto e che in realtà mi hanno di fatto fatto relegare questo film a una produzione secondo me in realtà di fatto molto più modesta come resa di quello che poteva essere la cosa principale che secondo me è mancata a questo film all'inizio è stato il distacco la freddezza del modo di raccontare se questa storia fosse stata meno palese se in qualche modo la percezione da parte dello spettatore di quella che era la situazione reale fosse stata resa accessibile al pubblico non così presto ma anzi fosse stata resa accessibile in qualche modo è più palese soltanto da metà del film in poi questo film molto probabilmente mi sarebbe piaciuto tantissimo di più ma veramente tanto è stato tutto troppo immediato e al di là di mie magari passate visioni che potevano un pochettino smaliziarmi con certi espedienti narrativi e certe furberie in realtà comunque al di là di magari mie congetture secondo me rendere meno palese questa storia l'avrebbe resa molto più efficace al tempo stesso poi ci sono dei momenti in realtà un pochettino gratuiti con certi elementi che secondo me in realtà sono un po' trascurabili di fatto in qualche modo e che non permettono chissà quale caratterizzazione extra per certi versi ed in realtà al netto di quello che abbiamo visto sto alludendo i momenti di sessualità molto spinta e ripetuta in realtà nella prima parte di questa storia in realtà non apporta una caratterizzazione extra ai personaggi o ai rapporti fra di loro a fronte soprattutto di una seconda parte di questa storia quando abbiamo per bene la rivelazione della relazione che c'è fra i desi jack e quindi ci rendiamo conto che in realtà tale sfrontatezza e tale sessualità gratuita all'inizio di questa storia in realtà era veramente un qualcosa di gratuito un gratuito che in realtà non apporta nulla di che questo film dal punto di vista visivo tutto sommato mi ha colpito anche parecchio belle location non mi è dispiaciuto affatto in qualche modo il movimento della videocamera in qualche modo che riprende le varie cose al tempo stesso però secondo me malgrado il montaggio aiuti in certi momenti in realtà è la sceneggiatura la storia vera e propria che si prende dei tempi anche un pochettino troppo lunghi ad un certo punto per raccontare delle cose che di fatto in realtà non fanno che allungare un pochettino il brodo secondo me questo film avrebbe giovato di essere un pochettino meno lungo in realtà soprattutto nella sua parte centrale quando ormai lo spettatore si era abbastanza reso conto di quello che stava guardando e poi le interpretazioni dei suoi personaggi le dinamiche fra loro in realtà non hanno permesso chissà quale picco drammatico in qualche modo quindi in realtà diciamo che ci si è dilungati per nulla a mio avviso ci sono poi alcuni elementi che proprio mi hanno veramente fatto storcere tanto il naso onestamente ho trovato in un personaggio secondario in qualche modo che in realtà è amica della personaggia principale in realtà il personaggio di Bunny interpretato la regista Olivia Wilde un pochettino troppo importante in certi momenti del racconto appunto e forse le si è dato un po' troppo spazio le si è dato un po' troppo spazio nella primissima parte di questa storia e poi in realtà verso la fine probabilmente si è voluto caricare un pochettino il suo personaggio forse chissà la Wilde che in realtà credo dovesse essere la protagonista di questa storia prima che venisse scelta Florence Pug a seguito della sua ottima performance in Midsommar forse chissà voleva mantenere un po' di quella caratterizzazione o comunque un certo peso all'interno delle dinamiche dei personaggi di questa storia perché comunque voleva togliersi questa soddisfazione però in realtà di fatto al di là della rivelazione del perché lei che comunque aveva motivo di avere alcune perplessità fra virgolette e non si è voluta in qualche modo ribellare a questo sistema in realtà l'ho trovato poco di impatto se le sue motivazioni potevano essere intuibili ad un certo punto in realtà comunque per come ci vengono raccontate è tutto secondo me poco impattante abbiamo poi dei momenti finali che in realtà mi hanno veramente indispettito quasi una violenza finale in realtà da parte della moglie del personaggio di frank che sinceramente ho trovato tirata fuori da nulla per certi versi non accompagnata da nulla di quello che avevo visto fino a quel momento soprattutto quando apparentemente tale moglie interpretata da Gemma Chen apparentemente era assolutamente in qualche modo autosottomessa al marito o meglio riteneva che tale marito frank fosse una figura così fondamentale malgrado comunque frank avesse detto che in qualche misura la moglie era molto importante un finale di inseguimenti terribile non voglio neanche pensarci sinceramente e poi ciliegina sulla torta in realtà ma ciliegina amare a mio avviso un finale aperto perché di fatto in qualche modo malgrado apparentemente sia intuibile se non lo vedi non ne sei sicuro e quindi in realtà entro un certo livello è lasciato lo spettatore a decidere se alla fine quel respiro quel sospiro quello che è è un sospiro o respiro di ritrovata libertà per il personaggio di Alice oppure invece l'ennesimo momento di difficoltà di una prigionia che è ricominciata avrei sinceramente evitato don't worry darling quindi in tutta onestà secondo me è stata più un'occasione mancata che altro questo film che comunque non sarà stato chissà quanto costoso ma comunque non può essere costato due lire in realtà secondo me non riesce a essere abbastanza né ovviamente come blockbuster ma neanche come film di fascia alta in realtà e non riesce ad essere abbastanza indie per cui in realtà si perde nel mezzo per questi due livelli se vogliamo di produzione divenendo in questo modo di fatto anonimo anonimo proprio lui che in realtà non fa altro che andarsi a basare consapevolmente o meno su altre produzioni che anonime assolutamente non sono e che sinceramente dopo aver visto quelle quando uno può capitare di vedere questo film molto probabilmente il risultato non può che essere negativo don't worry darling sinceramente la trovo un'occasione mancata se non avete visto che anche di film che magari posso aver citato in questo caso o comunque se non avete visto grandi film o anche medi film che trattano il tema della manipolazione in qualche modo e di questo setting così atipico che magari nasconde qualcosa di più magari può valere la pena vederlo altrimenti al netto di alcune cose che non mi sono dispiaciute sinceramente la trovo una visione assolutamente trascurabile e quindi non mi sento di consigliarvela di consigliarvela